Montagnana Music Village Sono qui con Marco anche questa sera al Music Village di Montagnana, tu fai parte di? Allora di una band blues, si chiamano i Dr. Harp Blues Band Blues dice tutto, cosa fate stasera? Facciamo blues anni 50, siamo un po' ispirati ai grandi musicisti degli anni 50 di Chicago, All in Wolf, Maddie Waters e altri. Cerchiamo un po' di fare le cose in stile, con un po' anche il suono di quell'epoca insomma. Allora c'è Andrea che è il cantante, poi c'è Fabrizio l'armonicista bravissimo, l'armonicista blues, poi c'è Elia al basso e Paco alla batteria. L'importante per noi è aver avuto lo spazio personale nella nostra musica, per noi è un'occasione molto importante questa, perché il blues non ha tanto spazio nelle manifestazioni, quindi noi abbiamo partecipato veramente con onore, veramente con onore di aver partecipato a una manifestazione in cui includeva anche il blues come musica.